In questo video vedremo come mettere online i nostri powerpoint. Questa procedura è molto utile per i docenti che vogliono avvicinarsi alla metodologia della Flipped Classroom. In ogni caso può essere utile anche a tutti gli altri, a tutti quelli che vogliono mettere a disposizione ad esempio un powerpoint ai loro studenti e vogliono evitare di farlo attraverso l'invio tramite post elettronica. Il metodo che vedremo in tutta una serie di siti web è questo, prendere il powerpoint, caricarlo in un sito e dare il link di questo sito. In questa maniera noi non stiamo mobilitando il file, abbiamo depositato il file in cloud e quel file poi è raggiungibile mediante un link. I siti che consentono questo gratuitamente sono ormai tantissimi, io vi segnalo questo che è uno dei più affidabili ed è slideshare.net In questo caso vedete il mio canale, qui sono tutti i powerpoint che io ho via via inserito. Per esempio se clicco questo, qui si vede appunto tutte quelle che sono le slide. Si possono navigare proprio come fosse un normalissimo powerpoint, qui abbiamo anche tutta una serie di thumb che sono le singole slide. Si vedono anche i tag che in qualche modo lo rappresentano ed eventuali commenti di utenti. Per ogni slide, in questo caso vedete sono 10 slide, vengono sinteticamente implementati dal sito quelli che sono i contenuti, che in genere consiste nella lettura delle prime righe di ogni slide. In questa maniera, tornando a tutte i miei powerpoint, in questa maniera noi non stiamo dando ai ragazzi il nostro powerpoint, semplicemente stiamo caricando online un documento che già possediamo. Questo sito non richiede nient'altro che il caricamento di un powerpoint, è il sito stesso poi a provvedere alla sua trasformazione, perché questi file ormai non sono più, tecnicamente parlando, dei powerpoint. La qualcosa è particolarmente utile perché in questa maniera noi possiamo anche evitare di installare software di lettura di powerpoint, come per appunto Microsoft PowerPoint o da altri. Peraltro, SlideShare è anche molto comodo perché non solo ci consente di inserire i nostri powerpoint, ma allo stesso tempo ci permette anche di cercare powerpoint fatti da altri colleghi. Per esempio, se noi vogliamo scrivere Shakespeare, vogliamo cercare Shakespeare, effettuiamo una ricerca, ci compariranno centinaia, a volte migliaia di contributi di cui possiamo scegliere il tipo, la lingua e altro. E non è detto che una nostra lezione non parta proprio da uno di questi documenti, che sono già stati svolti. E che, ecco, in questo caso per esempio sto vedendo un semplice powerpoint sulla tempesta. Ecco, io posso sfogliare le slide. Addirittura dietro registrazione io posso anche scaricare queste slide, sempre che l'autore che le ha caricate abbia consentito questa ipotesi. Quindi, in funzione Flipped Classroom e non solo, questo sito è utilissimo perché possiamo caricare i nostri materiali, magari il nostro patrimonio di powerpoint che abbiamo da tempo e che non sapevamo come poi poter dare ai ragazzi. Ora vedremo una carrellata di siti che fanno la stessa cosa di SlideShare. Per esempio, questo è SlideBoom, anche qui ho impostato una ricerca su Shakespeare e anche in questo caso vedete che l'interfaccia è molto molto simile, viene caricata una slide e si può lanciare il play, quindi una sorta di video di quelle che sono poi le slide che l'autore ha composto. SlideBoom.com Un altro sito ricco, molto ricco di materiale è DocStock.com, anche qui ho impostato una ricerca su Shakespeare. Questo sito ospita anche dei file Word, nulla vieta di inserire su SlideShare, vale a dire nel sito che abbiamo visto per primo, dei file Word, anche se il sito, un po' come fa capire anche dal nome Slide, è più che altro orientato al powerpoint. In questo caso vediamo, qui siamo su DocStock.com, vediamo che il funzionamento è molto simile. La differenza è che qui le pagine le vediamo tutte, senza scorrerle, e quindi la qualcosa può essere in alcuni casi più utile, in altri meno utile. Un sito leggermente diverso da quelli che abbiamo visto è i su, questo in realtà serve più che altro per caricare online giornalini, oppure a volte persino anche cataloghi, è molto adoperato anche dalle ditte, però nulla vieta di usare anche un sito come questo. Non a caso il fatto che abbia un uso anche commerciale, lo si vede dal fatto che avendo impostato una ricerca su Shakespeare, i primi risultati che compaiono sono legati a una rivista. Poi ci saranno anche, scendendo più giù, anche dei contributi eventualmente svolti per esempio da alcuni studenti. Come vedete il sito è molto molto usato, quindi ci sono tantissimi tantissimi contributi. Anche qui si può effettuare una ricerca per, ecco, ecco qui questi che cominciano a essere probabilmente una serie di contributi anche scolastici. Altro sito, slidecorner.com, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un sito che funziona esattamente come gli altri, è tuttavia meno utilizzato, vale a dire meno utenti registrati di SlideShare, pertanto è probabilmente consigliabile l'uso di altri siti. In questo caso vedo che c'è un problema con il caricamento della pagina, vediamo un po'. Pagina bianca, il che mi fa pensare che il sito, ecco qua, abbia qualche difficoltà nel caricamento dei contenuti, peraltro proprio su Shakespeare. Va bene, intanto che carica SlideCorner, vediamone un altro, SlideOnline, anche in questo caso, vedete questo sito è meno orientato a un uso, diciamo, di carattere scolastico, tant'è che per un argomento così noto non carica dei materiali. Questo si chiama SlideOnline, ecco qui, .com, e come vedete graficamente è più curato di altri, ma è più legato all'ambito aziendale. Non a caso, una delle prime slide che comparono sono il design delle informazioni, per esempio. Calameo somiglia molto a ISU, vale a dire a questo che avevamo visto qualche istante fa, anche qui si possono caricare dei materiali, anche qui possono essere presenti materiali di ogni tipo, queste hanno l'area di essere, ecco, dei PowerPoint, ecco, leggi la pubblicazione, in questo caso viene aperta in un'altra finestra, quindi il funzionamento è leggermente diverso, insomma, il principio è lo stesso, qui si può zoomare sulla pubblicazione, oppure, ecco, scorrere di pagina in pagina, proprio come fosse un PowerPoint. Questo che vediamo ora è Emaze, emaze.com, questo è un sito che offre degli effetti speciali particolarmente gradevoli, come vedete, se scorriamo, infatti, vediamo che il sito pubblicizza molti template, vale a dire modelli, particolarmente eleganti, ne apriamo uno, per esempio, chiunque adoperi Emaze potrà usare questi modelli per i propri documenti e di conseguenza potrà editare nel complesso un tipo di documento che esteriormente appare molto, molto, molto curato. Ecco, ora proviamo ad aprirne qualcuno, vedete, la cura grafica anche da questa interfaccia è, diciamo, abbastanza evidente, qui nella parte estra è possibile vedere il frame di registrazione, è possibile, cosa che non succede in tutti, anche fare una ricerca per quanto riguarda la lingua italiana, ecco, questi sono i nostri, dice, template, e qui vengono specificate anche alcune caratteristiche. Uno in particolare, la segnalo, è multidispositivo, vale a dire quello che produce Emaze come file in uscita è un documento leggibile anche da smartphone. Ecco, questa che sto cercando di aprire è un esempio di gallery, molto utile per le presentazioni di opere artistiche, in quanto simula una specie di museo. Proviamo a fare una ricerca di questo tipo, vediamo se riusciamo ad aprire, ecco, Treviso, Museum on a Maze, ecco, vediamo un po' di cosa si tratta. Ecco, questo è il caricamento e l'interfaccia grafica a volte è piuttosto pesante, quindi richiede, ecco qui, se noi lanciamo il play e scorriamo le pagine, ecco, come vedete c'è una specie di simulazione tridimensionale di quello che è la vista di un museo. Naturalmente non avendoci visto registrati il sito chiede la registrazione, ecco qui, e qui abbiamo una specie di simulazione di un museo. Ci sono anche altri template un pochino più semplici di questo, qui ne ho aperti altri. Tuttavia, Maze fornisce un numero abbastanza limitato di modelli, cioè di template, però tutti estremamente curati. Si può fare anche una ricerca per utente, per vedere quanti modelli sono stati caricati a singolo utente. Qui Treviso Museum è quello che abbiamo visto prima, proviamo a aprire un altro, in questo caso sembra di leggere Pasqua nell'arte, anche questo, vedete, ha la struttura di un museo virtuale. Poi, in ultimo, lasciamo uno dei più noti, questo è Prezi. Prezi consiste in delle presentazioni che non hanno però una linearità come PowerPoint. Se PowerPoint idealmente si sposta da sinistra a destra come in una linea, Prezi si sposta come in una sfera. Se infatti noi proviamo a scorrere, anche qui ho fatto una ricerca, ecco, e a ingrandire il Prezi che ha fatto un determinato autore, vediamo che qui possiamo avere l'approccio che vogliamo, non dobbiamo andare per forza in maniera, lineare. Posso cliccare su questa slide, ma posso anche tornare indietro e andare nell'altra. Posso però, ovviamente, anche seguire l'ordine, in genere è consigliabile, che l'autore ha deciso. Prezi, peraltro, integra perfettamente i video, in un caso ho infatti visto che c'è probabilmente un video di YouTube, eccolo qui, questa è una slide, tutti gli effetti, ma quando si va in questa slide parte praticamente di YouTube. Questo che ora vediamo è sempre di nuovo Prezi, sempre su Shakespeare, per far vedere che ci sono anche qui vari approcci grafici, in questo è un tema scuro, come vedete, e qui l'aspetto non lineare è particolarmente evidente. A volte, questi che vedete sono effetti grafici fini a se stessi, a volte, dipende dall'autore, hanno un loro significato, un loro senso anche rispetto al design che didatticamente viene scelto in base all'argomento. Altro esempio di Prezi è questo, anche questo molto curato e molto chiaro graficamente, diversamente da altri che invece usano gli effetti di Prezi soprattutto per una questione spettacolare e non strettamente didattica, quindi vedete invece è stato costruito con un maggior criterio grafico. Tutto quello che abbiamo visto serve, non solo lo ripeto, alla Flipped Classroom, serve in particolare a quell'approccio. Serve soprattutto per fare in modo che tutto il patrimonio di documenti che noi possediamo, che sono spesso in formato PowerPoint perché magari sono stati fatti da noi negli anni, possono essere innanzitutto caricati online, quindi in qualche modo salvati, in qualche modo questo possiamo intenderlo anche come un backup, ma allo stesso tempo possiamo molto più facilmente dare ai ragazzi un link piuttosto che tutti i nostri documenti che di volta in volta produciamo. Se infatti noi creiamo un nostro canale, ecco che apparirà nella forma, per esempio slideshare.net slash nome e cognome del docente. Quindi una volta che noi diamo ai ragazzi l'indirizzo, che ripeto può essere slideshare.net slash mariorossi, nell'ipotesi che il docente si chiami mariorossi, a questo link compariranno sempre tutti i video che il docente mariorossi caricherà. Quindi è molto semplice, anche piuttosto facile memorizzarlo, però una volta dato, special inizio dell'anno, il link all'insieme di video, tutti quelli che verranno caricati poi saranno sempre raggiungibili a questo link, da un'interfaccia molto simile a quella che state vedendo. Questo è il mio, quindi questo è raggiungibile a slideshare.net slash design didattico. In questo caso sono presenti qui 14 slide. Se dovessi aggiungerne altre, il link non cambierebbe, sarebbe sempre quello, e qui naturalmente comparirebbero via via. Posso scegliere anche altre visuali, che sono praticamente quella per l'ordine dei più visti, oppure sotto forma di documenti, se ho caricato i documenti, video o infografiche. Anche se, ripeto, ancora una volta, slideshare è più che altro utile per quello che riguarda le presentazioni che derivano da PowerPoint.